L'uomo ragiona con il pene, con il pisello, la donna ragiona con i soldi, con la pecunia, come anticamente dicevano i latini. Ecco, io oggi mi trovo qui per affrontare con voi questo delicatissimo argomento, questa delicata tematica relativa al fatto che l'uomo, oggi come oggi, quello di oggi, quello che è presente nei social network, e non parlo quindi di quello della realtà, ragiona con il pene, con il pisello, con l'organo genitale che ha tra le gambe, ok? Quindi se si mette in una chat, se si mette in un social network, ci si mette non perché vuole passare del tempo, non perché vuole accrescere le proprie competenze caratteriali, etiche o confrontarsi per migliorare con la finalità di migliorare e migliorarsi, ma semplicemente perché vuole, de facto, di fatto, andare a inzuppare quel simpatico biscottino che ha tra le gambe, dentro a una bella peschetta, una bella pesca, inzuppare il biscotto nella marmellata, ok? Nel latte, va bene? Quindi ad un uomo che sta nei social, non gliene frega non un accento né niente, com'è una ragazza donna, sì, magari la guarda, la nota, però l'importante è andare a riempire un buco, scusate la volgarità, ma di questo secondo me si tratta, ok? Ora, io per fortuna ragiono con un minimo di cervello, con un minimo di etica, con un minimo di personalità, ok? E certe cose non le vado a guardare, cioè a me non mi interessa com'è una donna, sì, noto l'estetica sicuramente, l'impatto estetico c'è sicuramente, subito, però non c'è solo quello per me, buona parte c'è quello, ma guardo soprattutto il carattere di cervello, perché io tempo fa vi ricordo che ho conosciuto una bellissima ragazza, che però dal punto di vista caratteriale era pessima, non andava nemmeno per un per cento bene nei miei confronti, nei miei riguardi, perché sì bella, sì sexy, sì affascinante, ma caratterialmente valeva meno di zero, eppure era una bella bionda, no? questo è, per quanto riguarda invece la donna, la donna che sta nei social, secondo la mia opinione, ragiona con i soldi, ragiona in finalità di soldi, ragiona perché voglio avere soldi, voglio avere pecunia, voglio avere gli interessi che mi venga garantito, io seleziono il più bello, il più affascinante, quello benestante, per avere chissà che cosa, per avere un aiuto, per avere un qualcosa, per avere, per ricevere un sostentamento, punto, ma de facto, di fatto, di questo si tratta, per quanto riguarda la donna, la ragazza, che si mette nei social network, Mythic, Badoo, Lobo, che vi posso dire, chatta.it, ok? Ce ne sono tanti di social, non ce ne sono uno o due, sono tantissimi, sono moltiplici, ok? Io quindi vi posso garantire che una donna, oggi come oggi, è in un social, alcune ci stanno per perdere tempo, perché non sanno che fare, hanno una vita piatta, pallosa, triste, donne che fanno le escort, che si propongono, donne che si mettono lì solo perché vogliono ricevere complimenti, commenti, il mi piace, il like, e via dicendo, ma soprattutto donne che cercano l'uomo per interesse, quindi perché questo faccio quello che voglio io, oppure perché spero di trovare il cosiddetto pollo da spennare, che significa pollo da spennare, un uomo che abbia soldi, un uomo che abbia pecunia, un uomo che basta che gli mostri una coscetta, una coscetta mia, ed ecco che cade, basta che mi metto una bella d'oreggenti e diventa schiavo del mio volere, schiavo del mio piacere, schiavo delle mie esigenze, seguace intimo di quello che gli vado a dire, di quello che vado a pronunciare. Ecco questo de facto, di fatto è, e di fatto si tratta, secondo la mia opinione personale, ok? Quindi cerchiamo di distinguere, cerchiamo di scindere l'uomo della donna, l'uomo della chat, l'uomo del social rispetto alla donna del social. L'uomo del social ragiona col pisello, col reale augello, ok? Con il pene, vuole inzuppare il biscotto, ogni buca è trincea per l'uomo del social. Per la donna del social invece, soldi, pecunia, interesse economico, interesse materiale, mi interessa quello per, ma non c'è un ambito dietrologico, non c'è un sentimento, non c'è una passione, non c'è un coinvolgimento emotivo, o meglio, c'è un impatto estetico che viene visto, che viene valutato, ma il resto, dov'è il resto? Non si vede, perché per la donna del social conta più l'estetica, conta più l'uomo con i soldi, con i dindri, con la pecunia, rispetto a quello senza soldi, spiantato senza pecunia e soprattutto brutto. Il brutto viene scartato, a priori, ok? Questo avviene non solo nei social, ma soprattutto nei social, ma anche al di fuori del social network, ok? Per quanto riguarda invece la ragazza, cioè la ragazza, cerca i soldi, ok? Questa è la mia opinione. L'uomo invece cerca del sesso, del divertimento, del piacere intimo, del piacere sessuale, atto a far divertire l'uomo, atto a distrarlo, atto a farlo godere come un porco, come un riccio, come direbbe il biondo matti, matti il biondo. Godo, godo come un riccio. Ecco, questa è la stessa frase che l'uomo ha, che pronuncia nel momento in cui entra nel social, perché spera di trovare una donna, ma poi non troverà una donna, rimarrà a pippare, vedrà i migliaia di mi piace e la donna gli arrivano, e quello rimarrà fermo là, a farsi le p-i-p-p-e, ok? Grazie cari utenti di YouTube, questa è la mia opinione, barra visione, dei social di oggi, iscrivetevi, commentate, ho scinto, ho diviso l'uomo dalla donna, la donna dall'uomo secondo la mia opinione. Ciao, iscrivetevi al canale e al prossimo video, se ho detto delle castroniglie vi chiedo scusa umilmente, ma penso proprio di no. Ciao da Leandro e al prossimo video.